L'indice di vecchiaia della città di Messina è tra i più alti d'Italia, il 170,8% viene dato dal rapporto tra giovani e anziani. Nel 2007 era pari al 135%, vale a dire che la città, da dove partono 3.000 giovani all'anno e quel che è peggio non tornano più, invecchia sempre di più. Un dato su tutti, gli over 65 sono il 22,2%, nel 2007 erano il 19%, l'età media dei messinesi è pari al 44,9%, cioè siamo per la maggior parte signori o signore di mezza età che tra qualche anno diventeranno anziani. Non basteranno 10 casa serena a contenerci tutti, i messinesi che sono compresi tra un'età che va dagli 0 ai 14 anni sono il 13%, sì perché a Messina con questi chiari di luna non si fanno più figli, il tasso di natività è pari al 7,3%, eppure ci sono quasi 100.000 famiglie, gli abitanti adesso sono 236.962, nel 2017, pensate, erano 245.159, l'età media in Sicilia è pari al 43%, noi siamo ultimi anche in questo, o primi, a seconda di come si guarda la classifica, siamo i più vecchi e quelli con il rendito medio più basso d'Italia, 11.355 euro all'anno, e allora i vecchi, gli anziani, preferirei dire, sono gli unici ad avere un rendito certo, sono la nostra ricchezza, una ricchezza fatta di esperienza ma anche di rendito, certo non tutti, alcuni hanno una pensione da fame, teniamoceli comunque stretti.